alfredi mi rummi ecco il mio curriculum, dottore esposto ma tu non l'hai fatto proprio niente professore, professore, scusi di dare alfredo è arrivato il grande giorno eh si, sono anche un po' emozionato a milano degli aioli oh, raccoglio un ecchio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti